Uno 0-0 tra Ascoli e Napoli che non accontenta nessuno, non il Napoli che finquanto è rimasto in campo Iuliano per 19 minuti, cioè ha mostrato di essere più squadra e non l'Ascoli per il quale i due punti costituivano un obiettivo pressoché irrinunciabile. Ne è venuta fuori una partita priva di mordente, con pochissime emozioni, e due squadre che si sono quasi costantemente affrontate a centrocampo. A dire il vero, nella ripresa l'Ascoli ha messo in mostra una certa maggiore aggressività, che mai però si è tradotta in azioni di consistente pericolosità. L'Ascoli, così nel doppio impegno casalingo con Como e Napoli, ha colto due soli punti, certo meno di quanti ne sperasse. Per quanto riguarda il Napoli, occorre dire che ha destato ottima impressione finché Iuliano ne ha vivificato il gioco. Poi, invece, si è accontentato di portar via un punto.